Il Signore è con te, più di ogni altra cosa, più di ogni altra creatura, Maria ha avuto Dio con sé, fin dal primo istante della sua esistenza. L'angelo assicura a Maria, non temere, il Signore è sempre con te perché tu non abbia timore e con te perché tu sia forte nella sofferenza che ti attende. La regina della famiglia, nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei dei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Mentre le più bisognose della tua misericordia, Maria, regina delle famiglie, prega per noi e per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave Maria, regina delle famiglie, prega per noi e per noi. Ave Maria,λη, prega per noi.